Palazzo Funaioli Mazzi o sede dei Servi, via Roma 56, 53 e 100, Siena, l'entrata è accessibile tramite due rampe, che introducono all'atrio, la porta a doppianta senza molla di ritorno è facilmente manovrabile, ascensori, l'ascensore conduce al piano 1 ed è a norma, accesso alle aule e agli studi dei docenti, al piano 0 si trovano la portineria, l'aula magna, alcuni studi docenti e alcuni laboratori e l'aula 2, tutti locali accessibili, al piano 1 ci sono studi docenti e tre aule di cui solo la numero 5 risulta accessibile, servizi igienici dedicati, al piano 0 ci sono due banni, confort degli ambienti, le porte sono di larghezza adeguata e facilmente manovrabili, nelle aule sono presenti sedie con banchetti ribaltabili e c'è spazio sufficiente per nuoversi o inserire un altro tavolo, l'illuminazione naturale e artificiale è adeguata, la ereazione degli ambienti è naturale, la pavimentazione è adeguata, tecnologie per la didattica, per la teledidattica sono attrezzate tre aule, aula magna, aula 2 e aula 6, presenti due lim.